buongiorno e benvenuti in questo video a supporto della brochure di tueppi nella sezione appunto di gestione delle mail cercheremo in pochi minuti di capire il potenziale del sistema appunto nella gestione della posta elettronica come potete notare dal primo punto della brochure con tueppi siete in grado di operare da desktop e da mobile sia nelle applicazioni smartphone che tablet android e us esattamente con la stessa velocità non nascondo che in taluni casi l'applicazione smartphone è addirittura più più veloce o comunque più sorprendente rispetto applicazione desktop in quanto tipicamente in una soluzione enterprise come questa le applicazioni mobile sono abbastanza farraginose in questo caso invece di fronte ad una applicazione desktop estremamente pulita fatta di pochissimi pulsanti dove ci sono dei chiari contatori come potete vedere che indicano le cose da fare quindi in questo caso sistema mi evidenzia che ci sono tre messaggi da leggere che in questo caso sono appunto email da leggere ci sono due incarichi da svolgere quindi un'interfaccia molto pulita all'interno della quale ogni tipo di utente anche il meno digitalizzato riesce a trovare chiarezza e semplicità di utilizzo potete notare l'applicazione punto per smartphone android e ios molto facile a livello di home page e altrettanto all'interno delle varie menu di navigazione come lo è l'interfaccia di ios per e android per quanto riguarda la parte tablet all'interno della zona messaggi ci sono tre email da leggere che rappresentano tutte le email trovate sulle caselle di posta a me abilitate come vedremo tra poco in questo video all'interno di una dashboard e la colorazione viola quindi quella palla viola mi aiuta a comprendere che questa email per me un email non visualizzata e quindi è un email da leggere allora semplicemente cliccando sulla mail è facile entrare e vederne il contesto che vedremo sempre in zona centrale qui mi è subito chiaro su qual è la casella di posta che questa email è arrivata e l'aspetto molto importante è che ho subito chiaro tramite delle simbologie facili da comprendere che cosa è accaduta all'interno del mio team quindi il primo collega che in questo caso appunto è facilmente visualizzabile in questo caso sono io quindi mi lascia tracciata la data e ora indelebile di lettura del messaggio come vedete appunto il mio collega claudio ferrara ha letto il messaggio alle 12 21 del 15 marzo l'altra collega cristina l'ha letto poco prima mentre l'altra collega che si chiama manuela de luca non ha ancora letto il messaggio quindi esattamente come lo era per me in lista messaggi la colorazione viola di questa icona mi fa capire chi ha letto e chi non ha letto il messaggio altresì posso comprendere che è già avvenuto qualcosa all'interno appunto di questa richiesta che una richiesta informazioni macchinari per la quale sono stati assegnati degli incarichi quindi manuela si è contrassegnata che entrò oggi si è dato come obiettivo si è auto assegnata lo potete vedere dalle due dei due avatar di rispondere al cliente mentre la stessa manuela ha assegnato al tecnico che è in attesa di qualcosa in questo caso nella chat è molto chiaro che lei ha chiesto a claudio se gli condivide la manualistica appunto che il contenuto della mail che sta provenendo dall'esterno cioè da l'ipotetico cliente gianni lupo che appunto ha scritto su questa casella per chiedere informazioni riguardanti un macchinario che la mia azienda vende questo caso sta chiedendo dei dati di certificazione quindi cristina ha chiesto claudio quindi rimane per sempre tracciata in forma indelebile questa richiesta rimane tracciato che è stata cristina a condividere con claudio in quanto claudio non era visualizzatore nativo di questa casella e appunto claudio ha risposto che allegherà questa cosa entro sera e come farà claudio ricordarsi entro questa sera che dovrà restituire questa informazione semplicemente perché c'è un incarico con scadenza oggi e quindi claudio avrà in evidenza tramite gli incarichi che deve dare risposta entro questa sera se vado altresì a leggere un altro messaggio di posta che come potete notare è arrivata invece sulla mia casella diretta in questo caso naturalmente è un ambiente di prova quindi abbiamo utilizzato delle caselle generiche ma qui andate a configurare le vostre caselle aziendali è molto facile capire che una mail che è stata indirizzata direttamente a me perché sono unico visualizzatore di questo messaggio quindi come trovate nel punto di questa pagina della brochure è molto facile condividere questa cosa con un collega e come per farlo è sufficiente andare sul più dei visualizzatori il sistema presenta alcuni colleghi del mio team altrimenti posso digitare l'informazione tramite tastiera mi propone in questo momento viene tracciato che sono stato io a condividere a quest'ora con manuela perché ho condiviso con lei questo tipo di informazione per poterle assegnare un incarico ovvero andare su appunto l'avatar di manuela premere assegna un incarico selezionare tra le diverse voci che potete voi impostare riguardanti i vostri processi è molto facile all'interno della dashboard impostare delle voci personalizzate tra il resto multilingua e dire ad esempio a manuela che su questa richiesta di sopra luogo alla quale voglio dare una priorità lei in qualche modo si occupi di spostare l'appuntamento che avrei martedì prossimo con un altro cliente per lasciar spazio appunto la richiesta che mi arriva da questo cliente leonardo greco allora per farlo è molto semplice vado a digitare su un incarico in questo caso generico altrimenti potrei anche avere sostanzialmente una voce specifica dipende dall'analisi che andiamo a fare di processo ma il concetto non cambia vado a descrivere l'azione che deve compiere manuela e posso decidere il livello di urgenza che voglio assegnare a questo tipo di incarico quindi alessandro quindi io sto assegnando a manuela un incarico che può essere pianificato e quindi avere una data di scadenza che è oggi che è domani che i prossimi giorni quindi viene notificato immediatamente tramite una serie di alert che sono sul dispositivo mobile che sono sul dispositivo desktop il fatto che ho dato questo incarico ma il giorno che viene qui indicato l'incarico compare tra gli incarichi appunto della di giornata posso altresì come vedremo nel video dedicato alla gestione degli incarichi andare a vedere quali sono gli incarichi pianificati per i prossimi giorni cioè è consuetudine per tutti i clienti che hanno tu eppi e consultare la lista delle cose da fare di oggi ma dare un'occhiata anche a quali sono quelli programmati in questo caso vorrei che sia un'attività che viene fatta urgente perché come vedete sto chiedendo di spostare un appuntamento che è a ridosso di oggi quindi posso dare questa azione di urgenza questo significa che va a finire in cima le cose da fare di manuela alimentando il contatore di manuela naturalmente l'urgenza non richiede una data perché significa come viene qui brevemente descritto immediatamente dando questo tipo di incarico io sto dando un incarico a manuela tracciando in maniera inequivocabile data ora in cui l'ho dato e nel momento in cui come vedremo manuela lo completerà mi arriverà una notifica ora dopo aver condiviso con manuela questa email che era nativamente arrivata su una mia casella di posta e averle assegnato un incarico in maniera inequivocabile pertanto è impossibile che manuela non abbia in evidenza che deve fare questa cosa è molto facile rispondere a leonardo greco come in questo caso proponendo una data di un sopralluogo quindi esattamente come un client di posta io posso fare rispondi mi prepara naturalmente il mio indirizzo email che è lo stesso indirizzo email su cui ha risposto leonardo posso altresì cambiare eventuali indirizzi email che mi sono stati abilitati quindi io posso ricevere come un indirizzo e rispondere con un altro indirizzo e le mail saranno comunque collegate e andare in questo caso a rispondere al collega con un enorme vantaggio che andremo a vedere fra poco naturalmente c'è la possibilità di abilituare l'eventuale firma che è stata impostata aziendale io ho inserito un pulsante interattivo che si chiama appunto pulsante di feedback tramite il quale l'utente che riceve questa mail che non è un utente di sistema ma è un destinatario di posta elettronica che può avere qualunque client se preme questo pulsante il sistema mi notificherà che lui sta richiedendo un contatto questi pulsanti sono facilmente configurabili in dashboard a seconda del ruolo e delle tipologie di utilizzo ci sono un sacco di best practice in questo ambito ma soprattutto in fase di invio posso abilitare la funzione tracking ovvero indipendentemente dal client di posta che leonardo sta utilizzando per leggere la mail che io sto inviando ora il sistema mi farà sapere come è rappresentato anche nella brochure quando lui apre la mail se lui clicca su eventuali link contenuti o qualora faccia il download di un allegato il sistema mi notifica appunto che leonardo ha fatto il download dell'allegato sto premendo invia ora se andiamo a vedere la mail che avevo ricevuto l'incarico è chiaro a manuela che non ha ancora letto né la mail che gli ho condiviso né ovviamente per deduzione l'incarico che gli ho assegnato ma il sistema mi mette in evidenza tramite sostanzialmente questo link che alle 14.01 è stata data risposta la stessa manuela che vede appunto questa mail che gli ho condiviso vede questa risposta e può vederne il contenuto semplicemente cliccando sul link purché sia visualizzatrice della casella che io ho utilizzato per inviare la mail quindi vede sicuramente che è stata data risposta per vederne il contenuto deve essere condiviso o deve essere visualizzatrice anche della casella che è stata utilizzata per l'invio quindi sostanzialmente il sistema mi permette di semplificare notevolmente risparmiando un sacco di tempo un sacco di disagio nelle comunicazioni interne che in questo caso rappresentano funzioni di condividi anziché funzioni di inoltre nella possibilità di discutere all'interno della chat contestuale che rimarrà per sempre collegata al messaggio che cosa appunto c'è da fare assegnandoci degli incarichi gli incarichi possono essere più di uno quindi io posso costruire un set di incarichi che si riferisce a questo messaggio e nel momento in cui il set di incarichi è ripetitivo immaginatevi una richiesta da sito per la quale c'è sempre da dare gli stessi incarichi cioè tu rispondi alla mail, tu prepari l'offerta, tu analizzi il contenuto si possono utilizzare l'automazione di processi passando per i tag ovvero sviluppando dei tag di sistema che possono essere impostati facilmente dall'amministratore del sistema posso fare in modo che taggando ad esempio come richiesta da sito immaginatevi che qui ci sia richiesta da sito, aggiungendo questo tag si scateni in automatico un modo di incarichi per completezza andiamo a vedere la terza mail la terza mail è una mail anch'essa arrivata sulla mia casella di posta io voglio contrassegnarmi che a questa mail voglio rispondere domani in quanto sostanzialmente oggi non ne ho tempo come potete notare sullo screenshot è altrettanto facile farlo appunto con l'applicazione smartphone vado sul mio avatar come lo facevo sugli avatar degli altri premo assegnami un incarico quindi in questo caso mi sto auto assegnando un incarico rispondere entro domani bene domani questa email non andrà persa me la troverò nelle cose da fare come vedete me la trovo anche su smartphone appunto l'incarico contrassegnato me lo trovo nella lista degli incarichi e quindi chiarezza sempre in quello che si va a fare ma soprattutto non c'è più il disagio di dover continuamente cercare nella posta elettronica ma ricordo che mi aveva mandato una mail qualcuno a cui dovevo rispondere ma la vado sostanzialmente a smistare attraverso l'assegnazione di incarichi piuttosto che l'assegnazione a colleghi o la condivisione all'interno di contenuti pratiche che vedremo nell'apposita sezione in questo caso la richiesta informazioni di macchinario B si presta altresì nell'andare a porre un'etichetta descrittiva di questa mail qualora volessi specificarne maggiormente il contenuto e qualora la mail contenesse degli allegati che in questo caso non ci sono io potrei anche rinominare gli allegati per avere più carezza in quello che mi viene inviato il setup è molto semplice come vedete io posso partire dal mio utente naturalmente accedo al setup in quanto sono stato abilitato come amministratore questi utenti non possono accedere al setup quest'altro può accedere anche questo io vado all'interno del mio utente vado nella lista utenti e come vedete io sono visualizzatore di tre caselle e posso uscire con tre caselle che cosa sono queste spunte date in più come vedete su questa casella Alessandro Moretti oltre a poter visualizzare il contenuto della mail sono anche abilitato alla notifica quindi l'arrivo di una nuova mail coincide con una notifica all'interno dell'icona messaggi in questo caso quando arriva una mail su questa casella che è di una collega io posso vederne il contenuto ma non c'è nessuna notifica che mi avverte dell'arrivo di una nuova mail come può accadere questo? molto semplice non si accende l'icona messaggi se vado nella lista dei messaggi comunque in questo caso io potrei trovarmi dei messaggi sempre di colore viola che non vedo ma non è così interessante entrarci perché se non ho la notifica significa che c'è qualcun altro che supervisiona questa casella posso altresì carica filtri e accedere alle diverse caselle questa con notifica o senza notifica per vedere se ci sono dei contenuti da esplorare che non ho visto ma che comunque lo sto facendo unicamente per supervisione in quanto se invece fosse importante che questa mail venisse in qualche modo alla mia attenzione o lo farà chi supervisiona la casella oppure avrei impostato l'attività di notifica continuate sostanzialmente nella visione dei prossimi video dedicate alle diverse sezioni per comprendere questo incredibile strumento che vi permetterà realmente di portare grande efficienza alla vostra organizzazione grande produttività alle singole risorse rimuovere tantissimo disagio che è tipico all'interno delle organizzazioni quando le cose sono poco chiare e come io credo abbiate notato questa soluzione è in grado di sostituire completamente un client di posta lasciando comunque vive le vostre caselle quindi se voi avete Gmail continuate a usare le caselle di Gmail ma l'utente non deve accedere o non serve acceda al client di Gmail ma utilizzerà Tueppi per consultare la posta ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti